E' una scommessa. I beni culturali, tutto quello che è di antico, può dialogare con la modernità e con i nuovi mezzi? Io penso di sì e questa è l'occasione importantissima per dimostrarlo con questo sistema di Wi-Fi collegato nei codici a barre bianchi e neri che vi permetteranno con un telefonino di leggere, sapere e avere più approfondimenti su quello che vedrete al Museo Pepoli. Tutto questo avviene grazie alla collaborazione di istituzioni importanti, la Camera di Commercio, qui siete rivolti per avere un supporto per avere Wi-Fi per tutto il Museo, ma il Rotary Club di Trapani che invece ha provveduto alla gestione di una parte di questo servizio. Dottor Norrito, credo che sia insito proprio in quella che è l'attività, la mission di un club service come il Rotary. Sì, infatti noi siamo presenti a Trapani dal 1951. Non ci occupiamo soltanto di solidarietà, ma anche di cultura. Quindi parlando con Luigi di questa iniziativa abbiamo colto la palla al balzo e ci siamo fatti promotori di questa sponsorizzazione. Grazie.